7x4 il magazine multimediale delle marche grazie per la linea luigi buongiorno a tutti continuiamo oggi ad approfondire i limiti di spesa messi al super bonus per gli interventi antisismici gli importi di spesa messi al super bonus sono pari a 96 mila euro sia che si tratti di interventi realizzati su singole unità immobiliari sia per gli interventi sulle unità immobiliari dei condomini in questo caso l'importo di 96 mila euro va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio la detrazione spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici a condizione che si è eseguito congiuntamente a uno degli interventi principali vi ricordo che sono detraibili nei limiti di spesa previsti da ogni tipologia di intervento anche tutte le spese professionali necessari alla realizzazione dei lavori comprensive di redazione delle asseverazioni necessarie dell'attestato di prestazione energetica e anche dei visti di conformità per oggi è tutto grazie per l'ascolto a domani 7x4 il magazine multimediale delle marche